Accelerare e semplificare le procedure necessarie per l'avvio di attività commerciali, produttive o di servizi. A questo mira il protocollo d'intesa ciclato tra l'assessorato allo sviluppo del Comune di Napoli e la Camera di Commercio. A firmare il documento l'assessore Marco Esposito e il presidente dell'ente camerale, Maurizio Maddaloni. Il provvedimento consente all'imprenditore di inviare la comunicazione di avvio attività esclusivamente al sistema digitale del registro delle imprese della Camera di Commercio che di conseguenza la inoltrerà in automatico allo sportello unico online del Comune che a sua volta, effettuate le verifiche, comunicherà gli esiti della pratica all'ente camerale che rilascerà l'autorizzazione. Il sistema inoltre, oltre a facilitare e snellire l'avvio di un'azione imprenditoriale, consente di ridurre i costi per enti pubblici e imprese. Un'operazione che viene da lontano, merito degli uffici del Comune e della Camera di Commercio, che porta a unificare sostanzialmente le banche dati, cioè a permettere un dialogo molto intenso. Questo vuol dire, per esempio, che chi deve iniziare un'attività si iscrive alla Camera di Commercio e si trova automaticamente anche il via libera del Comune, o viceversa, chi passa al Comune si trova iscritto alla Camera di Commercio. La burocrazia deve fare un passo indietro e deve lasciare spazio a chi vuole intraprendere. Grazie a tutti.